Da una sezione estratta da una nuvola di punti, in alcuni casi, con alcuni software, secondo alcune impostazioni, volendo puoi tirare fuori anche un profilo di inviluppo. Che cos'è? È una polilinea, una polilinea tridimensionale, quindi un oggetto vettoriale tridimensionale che passa per tutti i punti della nuvola che compongono quella sezione. In questo video ti voglio far vedere come sezionare una nuvola di punti dentro Cloud Compare e poi tirare fuori un profilo di inviluppo dei punti della sezione. Come sezionare la nuvola di punti in realtà ne ho parlato in un video precedente, per cui ti rimando a quel video per capire come funziona il taglio di una nuvola di punti per affettare una sezione. In questo video riprendo giusto qualche concetto di base principale, perché comunque te lo devo far vedere e ti faccio vedere come si genera una sezione, ma proviamo a lavorare un attimo su il profilo di inviluppo. Ti anticipo che non è una ciambella che esce sempre con il buco, ci sono delle criticità, proprio per il fatto che quell'algoritmo è un algoritmo automatico e lavora principalmente su delle concavità, quindi le convesità fa un po' di confusione. Comunque è un inizio per vedere di tirare fuori in maniera automatica o semi-automatica una traccia, una sezione, perché poi noi siamo sempre un po' abituati ancora a vedere le sezioni come una rappresentazione bidimensionale vettoriale, dove c'è una linea che unisce i punti caratteristici dell'elemento che abbiamo sezionato. Allora, uso la stessa nuvola di punti che è girata, uso la stessa nuvola di punti che ho utilizzato nel video precedente dove ti ho fatto vedere la sezione, è una cava, un pezzettino di una cava. Allora, utilizzo il comando sezione, cross-section, devo selezionare la nuvola di punti nell'albero dei layer, il comando cross-section è questo. Allora, devi utilizzare le varie frecce e i vari cerchi che sono attorno alle frecce per muovere il volume di taglio, questo parallelepipedo, in modo tale che tu abbia in output, o meglio, che tu abbia la possibilità di sezionare la nuvola di punti secondo quello che è la sezione che effettivamente vuoi avere in output rappresentata. Mettiamo il caso che sia questo. Allora, se vuoi tracciare anche il profilo di inviluppo, il mio consiglio è quello di stringere un po' lo spessore di questo box. Stringerlo quanto? Stringerlo il più possibile, perché se tu non lo stringi, quello che succede è che adesso questo è un caso abbastanza fortunato, però neanche tanto se guardi questa parte, in questo pezzettino qui di nuvola di punti, ci sono punti che sono su questo bordo, punti che sono nel centro, punti che sono sull'altro bordo. Il software cercherà di tirare una linea di inviluppo sulla base di tutti i punti che compongono questa nuvola di punti, perché ricordati che la sezione in Cloud Compare non è una sezione come siamo abituati a conoscerla. Cerchiamo di arrivarci con questo strumento di inviluppo, ma di base è una parte di nuvola di punti. Per cui più punti ci sono e più disomogenea è la distribuzione lungo i piani che ti permettono di vedere questa nuvola di punti nella tridimensionalità di questa direzione, e più ci sarà un po' di confusione a generare questo inviluppo. Per cui il mio consiglio è quello di stringere il più possibile questa sezione in modo tale, nella posizione che ti è più congeniale o che vuoi utilizzare per generare la sezione, in modo tale da avere il meno numero di punti possibili. Lo puoi fare utilizzando queste frecce, ma lo puoi fare anche in maniera un po' più analitica lavorando qua, andando a dire al software quali sono le dimensioni, lo spessore, il box thickness, cioè lo spessore del box, lungo i tre assi. Ora in questo caso noi stiamo lavorando lungo l'asse X per stringere questo piano di taglio, questo parallelipipro di taglio, per cui possiamo non preoccuparci dello spessore lungo Y, che è questo, e dello spessore lungo Z, che è questo. Lavoriamo sullo spessore lungo X, che già vedi è abbastanza piccolo, 0, 0, 7. Proviamo a mettere 0, 0, 5. E lui si stringe ancora un po', potremmo anche pensare di provare a mettere 0, 0, 1, che è 0, 0, 9. Bisogna sempre un po' litigare con l'inserimento manuale di numeri dentro i box di Cloud Compare, non ho ancora capito perché. Però vedi che comunque 0, 0, 1, tutto sommato non è male, ho una buona linea di sezione che forse il software riesce a trattare per generare questa linea di inviluppo. Allora, come si fa? Per generare la sezione, io la posso fare qua. In realtà non è che genero la sezione, esporto quello che vedo in una nuova nuvola di punti, ma quello che vedo è di fatto una fettina, una sezione, quindi esporto una nuvola di punti. Lo facciamo, tanto lo mettiamo da parte. Se clicchi qua, il comando rimane attivo, lui cosa fa qua? Lui ti ha aggiunto una nuova nuvola di punti e questa nuova nuvola di punti non è nient'altro che quello che vedi tu a video, quello che ha compreso dentro il volume di taglio. Ma per generare il contour, quindi l'inviluppo, bisogna cliccare su questo pulsante Extract the contour as a polyline, quindi estrai l'inviluppo come una polilinea. E poi lui ti dice, concave hull, tra parentesi, lui ti dice che sta lavorando, ti dà un'indicazione sul fatto che utilizzerà un algoritmo che principalmente, senza entrare nel dettaglio di come funziona, però lavora molto bene sulle concavità, un po' meno sulle convessità. Vediamo cosa succede quando gli clicco sopra. Ti si aprono una nuova finestra e lui ti dice, ok, flat dimension, intanto dimmi dove vuoi che io lavori, nel senso sto lavorando lungo l'asse X, quindi ho sezionato muovendomi lungo l'asse X. Te lo dice già in automatico, perché ha riconosciuto il fatto che tu hai mosso questo volume di taglio, stringendo l'asse X, lasciando invariato Y, Y, Y e Z, e quindi lui ha già individuato il fatto che sta lavorando, sta flat, cioè sta schiacciando la tridimensionalità nella direzione della X. Poi ti dice, questi sono i comandi per l'estrazione dell'inviluppo. Tipo di contour, full, lower, upper. Hai la possibilità, allora proviamo a lasciare un attimo il mouse fermo, ti dice, scegli l'opzione se vuoi estrarre il, in base a come vuoi estrarre l'inviluppo da ciascuna fetta. Questo vale anche in caso di sezioni multiple, che è una cosa che poi vediamo nel prossimo video. È la possibilità di scegliere un'opzione full, lower, cioè la parte bassa, upper, la parte alta. Questo è utile in caso in cui la tua nuvola sia effettivamente molto mossa e ci siano un po' di elementi di disomogeneità che mettono in evidenza delle distinzioni tra basso e alto. Proviamo a lasciare full e poi magari facciamo un paio di prove con upper e lower. Max edge length, cioè la massima lunghezza nelle zone di bordo. Questo è un dato su cui devi intervenire quando vuoi dare al software delle informazioni in termini di che cosa succede al bordo, che cosa succede nelle zone di bordo. Lasciamo il dato che lui ti ha automaticamente calcolato in maniera, ti ha dato di default su un suo calcolo automatico. Generalmente lui già fa una sua valutazione sulla base di quelle che sono le caratteristiche della nuvola, sono numeri che sono diversi da nuvola a nuvola e ti propone idealmente un dato tutto sommato abbastanza buono per la nuvola che stai trattando. Multipass. Allora, Multipass ti dice che se ci sono dei bordi lunghi, mettere la spunta su Multipass può aiutare a creare il contorno il più aderente possibile alla nuvola di punti. Cioè, se lui trova dei bordi in modo tale che da un punto che corrisponde alla fine di una zona della nuvola al punto successivo, quindi le prende come zone di bordo, se sono lunghe, lui col Multipass attivo riesce forse a gestire meglio questo aspetto. Project slices points on their best fit plane quindi puoi, lui ti dice, prima di estrarre l'inviluppo i punti possono essere proiettati lungo la dimensione di proiezione per trovare o meglio, è sulla base del miglior piano che li fitta. Ora, in questo caso non dovrebbe essere una grande differenza mettere la spunta oppure no perché io ho fatto veramente una fetta molto molto stretta e quindi è molto probabile che non ci siano dei grossi problemi. La proiezione è lungo l'asse X e non credo di avere delle grosse sorprese a mettere la spunta oppure no. Però se tu avessi un box, quindi una fetta abbastanza larga, quindi uno spessore ampio, abilitare la proiezione ti permette di prendere i punti che sono a cavallo della parte mediana di questa linea di sezione e proiettarli su quello che è il piano che le approssima in maniera migliore. Il mio suggerimento è piuttosto stringi molto lo spessore del box in modo tale da essere più confidente tu a monte rispetto a far fare al software una cosa automatica che potrebbe andare bene però come alcune cose automatiche potrebbe anche non andare tanto bene. Split contours on longer edge quindi se ci sono dei tratti lunghi il software ti divide la nuvola di punti in parti più piccole la polilinea di inviluppo in parti più piccole visual debug mode ti fa vedere l'avanzamento io lo lascio deflaggato perché altrimenti ti richiede un po' di risorse e poi ti fa vedere il processo che avanza. Fatto questo e non aggiunge valore poi al risultato fatto questo gli dai ok lui ha fatto veramente veramente presto e andiamo a vedere un po' che cosa ha fatto in termini di risultati io gli ho chiesto di fare una rappresentazione gli ho chiesto di esportare di fare un'esportazione full stando dentro questa rappresentazione chiediamogli anche di fare una rappresentazione quindi un contour type lower lasciando invariato tutto il resto quindi il secondo è lower e chiediamogli anche di fare un contour type ho sbagliato qua ho fatto un'altra sezione così e chiediamogli anche di fare un contour type upper in modo tale che possiamo confrontare sullo stesso dataset chiudiamo allora vediamo 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 allora intanto spegniamo la nuvola di punti spegniamo tutto spegniamo tutto quanto qui dovrei avere due nuvole di punti corrispondenti alla sezione perché a un certo punto gli ho richiesto una nuova esportazione quindi la togliamo allora questa che vediamo è la polilinea di inviluppo che è stata generata utilizzando la modalità full lui mi ha creato una nuova cartella dove ha messo dentro due elementi sono elementi vettoriali sono polilinei vedi che c'è il simbolino della nuvola per la nuvola di punti poi c'è il simbolino di questa spezzata per indicare l'elemento polilinea vediamo che cosa succede allora vedi che tutto sommato lui non ha fatto un brutto lavoro non ha fatto per niente un brutto lavoro tranne che in alcuni casi proprio per il fatto che questo è un algoritmo che lavora molto bene sulle concavità e non sulle convessità e lui qui non ce l'ha fatta per esempio in questo spigolo di bancata lui ha tirato ha tagliato e quindi non è riuscito a tirare ad approssimare bene l'andamento la stessa cosa è successa qua aspetta che aumenta un attimo la dimensione dei punti così si vedono meglio e anche qui vedi che tutte queste parti queste gibbosità non ce l'ha fatta andarci dietro molto bene però per il resto non ha fatto un brutto lavoro tutto sommato i punti li ha presi li ha presi molto bene vediamo che differenza c'è tra una polilinea e l'altra all'interno della solita cartella quindi spegniamo un attimo la nuvola di punti vediamo ok la polilinea numero 2 è la parte alta quindi lui me l'ha spezzata perché gli ho gli ho chiesto di spezzare di spezzettare la polilinea in caso ce ne fosse bisogno per una migliore rappresentazione quindi lui l'ha spezzettata infatti c'è un'interruzione in questa parte e poi parte la polilinea nella parte inferiore vediamo che cosa è successo invece per quanto riguarda il lower quindi la parte bassa e allora accendiamo di nuovo la nuvola di punti il risultato più o meno è lo stesso e scusa mi stavo suonando il telefono il risultato più o meno è lo stesso in termini di approssimazione di queste gibbosità di queste curve con la differenza che lui non ha spezzato la polilinea scusa continuo a confondermi tra polilinea e nuvola in più parti è un unico dato vediamo che cosa è successo invece per la upper allora la upper fa una cosa diversa ok vedi che cosa è successo la upper si comporta quindi io questa è la polilinea di inviluppo che ho chiesto di esportare utilizzando la parte superiore della nuvola di punti la upper lavora bene lavora bene in questa parte perché? perché lui si prende tutto quello che c'è sopra e evidentemente lo considera tale e lo approssima però viceversa succede la parte succede che non va tanto bene in queste parti cioè quando deve fare una curva verso il basso prima questa cosa succedeva nella curva alta quando fa una curva verso il basso l'approssimazione non è un gran che qui tutto sommato non è male anche se si perde un po' di punti in questa zona qui idem la stessa cosa e quindi e quindi qual è la strada da percorrere? beh la strada da percorrere la devi valutare tu sta a te valutarla la strada da percorrere tu potresti prendere la upper e la lower quindi spegniamo la nuvola di punti e potresti usarle entrambe ad esempio quindi non la full ma la upper e la lower la full fa una sorta di di valutazione sua al suo interno per trovare la strada migliore in questo caso la upper e la lower quindi prendi la parte bassa prendi la parte alta della stessa sezione e poi eventualmente puoi pensare di fare un editing delle polilinee all'interno del software che magari vuoi utilizzare per gestire queste polilinee perché questo dato è un dato tridimensionale potresti portarlo in qualsiasi software di topografia e potresti ad esempio fincare una sezione con le varie progressive in questo modo prendendo entrambe le polilinee potresti fare un po' di tagli a cuci e potresti avere un dato che tutto sommato è rappresentativo di questa sezione di cava è completo perché le convessità vengono perse ma in un caso vengono compensate dal fatto che prima prendi la parte superiore e poi prendi la parte inferiore e alla fine il risultato potresti avercelo è chiaro che non va sempre bene alcuni casi va molto meglio di così quando il dato è semplice quando la nuvola di punti è semplice questa non era complessa ma non era neanche semplicissima la generazione della polilinea di sviluppo è molto più efficace quindi magari non devi fare nessun tipo di elaborazione in tal senso questo dato questa polilinea tu la puoi prendere la puoi esportare in formato shapefile in formato dxf la puoi portare da altre parti e la puoi elaborare non stiamo parlando di un processo totalmente automatico stiamo parlando di un processo che in parte è automatico in parte ha bisogno del tuo intervento però tutto sommato e forse ti sarà anche più chiaro quando vedremo il prossimo video dove ti farò vedere le sezioni multiple è un processo che già ti dà una buona mano a velocizzare un po' di attività nella fase di estrazione di punti di estrazione di sezioni dalla nuvola di punti una cosa che mi sento assolutamente di consigliarti e a cui devi stare attento è attenzione ai punti della nuvola perché se i punti sono tanti la polilinea avrà un vertice per ogni punto quindi piuttosto sottocampiona la nuvola di punti snellisci la nuvola di punti in modo tale che la polilinea non sia un dato totalmente ingestibile dal punto di vista del numero dei vertici anche nell'ottica di una fincatura perché se a ogni vertice metti un picchetto il dato viene totalmente illeggibile spero di essere stato utile con questo video nel prossimo vediamo come si estraggono sezioni multiple intanto sotto partono le campane non so se si sentono se è stato utile e lo vuoi condividere mi fa piacere magari a qualcun altro potrebbe essere utile così come lo è stato a te se lo è stato puoi iscriverti al canale telegram di 3Dmetrica telegram.me slash 3Dmetrica o supportarmi telegram.it no 3Dmetrica.it slash supporta e puoi diventare un finanziatore di 3Dmetrica io ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini 3Dmetrica 3Dmetrica